Perchè sono per tutto? Perchè sono per tutto? È importante perché porti un bel messaggio Grazie A me li prende spesso Quando mi faccio il selfie in macchina La cintura c'è La cintura c'è Il telefonino dove devi tenermi In borsa In borsa Ma sto più piccola Allora ci si segue sempre Allora abbiamo Il partner Ci c'è Radio FM Palea Che vogliamo ringraziare E su circa 9 anni Ci si seguono Con le auto storie In tutta Italia E poi ho scoperto che da poco Sandro Parigi Farà da sponsor A Popcorn Certo Sicuramente Prenderemo Prima di tutto Anche perché adesso Saremo a breve Anche in tv Però abbiamo Questa posizione Qui Come ci potete dire E vivere Tutti i giorni E ti sei Vado a dire Un bel sito Anche in parisi Tranquilla Tranquilla Non può Grazie Lucia Dallunzi Grazie a voi 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 E poi C'è un ospite Dalla Sessana Dalla Sessana Alle prese Alle prese Burocratiche Allora Io ringrazio Grazie a voi Per essere venuti Qui Per aver portato Questo bel messaggio E per averci Soprattutto ricordato Di questa festa Della preghiatura Dal 4 al 7 luglio Quindi non mancate Piani di Montevette Monte Giorgio Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie